Andiamo a scoprire quanto è costato il carrello della spesa per i prodotti alimentari nel 2023 e cosa c'è da aspettarsi per gli acquisti dedicati a pranzi e cene in queste frenetiche giornate di festività. Ce ne parla Roberta Campanella. Nei primi nove mesi del 2023 il carrello della spesa per i beni alimentari da consumare in casa è costato agli italiani il 9,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. E' quanto si legge nel report agrimercati di Smea relativo al terzo trimestre dell'anno. Secondo i dati dell'osservatorio sui consumi alimentari Smea Nielsen IQ, in termini assoluti l'incremento è di oltre 7 miliardi di euro con un carrello che si conferma alleggerito nei volumi. Latte, pane, uova e olio extravergine di oliva, tra i prodotti che hanno registrato il più ampio aumento della spesa che malgrado un leggero ridimensionamento dell'effetto inflattivo resta il più alto degli ultimi anni. Ha notato negli ultimi mesi un aumento dei prezzi dei generi alimentari? Eh sì certo, parecce almeno un 20-30%. In generale è aumentato tutto, anche nei discount. Sulle alimenti da banco, soprattutto sulla carne, sulla frutta. Ha notato che alla fine della spesa lo scontrino è molto più alto. Quest'anno sarà un Natale un po' costoso. Una tendenza confermata anche dal 57esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese che evidenzia che una persona su due teme di vedere i propri risparmi diminuire rispetto al 2022. Si riesce ancora a risparmiare? No, non c'è niente da risparmiare. Si consumano quelli che già erano stati risparmiati. Non si riesce più. Sì e no, dipende. Certo. Pochissimo, ma magari rinunciando pure al riscaldamento. Io cerco di non risparmiare invece, io più di 150 anni e altri devo gampare. Già in lievitazione panettone e pandoro non solo nei laboratori di pasticceria. Guardando i dolci che caratterizzano le tavole degli italiani a Natale, infatti, dall'indagine realizzata dall'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori emerge che il prezzo del panettone tradizionale cresce del 9% rispetto allo scorso anno e del 10% quello del pandoro, più 9% anche per la versione gluten free del panettone, più 14% per quella mini e più 15% per il panettone vegano. Quanto costa quest'anno un panettone al chilo, un panettone tradizionale? Un panettone all'incirca, siamo su 25 euro. Ci sono stati aumenti rispetto allo scorso anno? Sì, certo. Ci sono aumenti di 5 euro al singolo pezzo. Dettati da cosa? Dai costi di gestione, tasse e materiale che sono saliti alle stelle. Sul panettone salato ce ne abbiamo tantissimi. La novità di quest'anno è quella della Bresciola barese. È cambiato il prezzo rispetto allo scorso anno? Sì, qualcosina sì e c'è qualcosina in aumento perché i costi sono leggermente aumentati nelle materie prime e nei costi in generale. Un aumento che le stimerebbe in quanto? Noi l'abbiamo prefissato in 1-2 euro nel generale riguardante il panettone. Sia quello tradizionale che quelli farciti? Sì, sì, sì. 1-2 euro. L'aumento generalizzato dei prezzi insieme ai costi delle bollette e alle rate dei mutui secondo Feder Consumatori influenzeranno le scelte delle famiglie che dovranno fare i conti con un budget ridotto per i menù natalizi. Rinunceranno i pugliesi alle tradizioni culinarie delle feste? Meno carne sicuramente perché anche lì è aumentato il prezzo. E a che cosa invece non rinuncerà? Ai dolci. Al salato? Beh, sicuramente a tutto quello che la tradizione vuole, quindi il panettone, il pandoro. Eviterò eccessi. Cercheremo di mangiare meno. Potrei fare a meno di tante cose. No, rispettiamo le tradizioni. No, vabbè, sulla tavola di Natale no, dai. Le anguille, frutti di mare, quali è impossibile rinunciarci. No, la tavola di Natale no, dai. No, la tavola di Natale no, dai. La tavola di Natale no, dai. Grazie.